Grazie a tutti voi, perché nei momenti difficili, ancora una volta avete dimostrato che il canale viene prima di tutto e non a questa cosa ce l'hanno portata fino a domenica scorsa fino a stasera, poi i risultati sono figli di episodi, ma ci abbiamo messo tutto con la presenza di SDS, comoda e sicuramente. Quindi bravo, 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 bravo. Lide il nostro formandante, Luigi, Carlo, Romagna, Grazie! 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 Quello che siamo inizio a fare l'abbiamo fatto insieme. Io ricordo quando sono arrivato un anno e mezzo fa, ho chiesto aiuto a voi. Perché solo con noi potevamo fare bene che abbiamo fatto. Siamo l'anno scorso o quest'anno. No, bravi voi e bravi ragazzi! Grazie! Grazie! Voglio dire che il nostro esperanto... Potrebbe stare sempre riuscito a questi ragazzi. Vi diventeranno tutto il campo, stati vicini. Potranno sbagliare, ma l'importante è che non verranno mai. Se voi vi soffiate... ... Grazie!